Non credo ci sia altro da dire, è altro da fare. Un applauso lungo tutto un paese perché questi ragazzi se lo meritano, se lo merita il commissario tecnico, se lo meritano i ragazzi da Giorgio Chiellini a Lorenzo Insigna, Nicolo Barella, a Marco Verratti, a Giorginio, a Donna Rum, a tutti quanti. Si meritano un grande applauso perché ci portano in semifinale, perché battiamo la numero uno del ranking mondiale con una partita meravigliosa dove ci sono state tutte le cose che una grande squadra sa fare. Controllo della partita, lettura delle situazioni, dominio, gol e sofferenza. Tutte queste cose fanno una grande squadra e adesso veramente, possiamo dirlo, nulla è precluso per noi perché andiamo a Wembley, andiamo a giocare la semifinale con la Spagna ed è un'emozione incredibile questa perché veramente questi ragazzi partiti dalle macerie della mancata qualificazione ai mondiali, grazie al lavoro di Mancini, grazie alla volontà di giocare a calcio, sono riusciti a costruire qualcosa di bello, qualcosa di importante, qualcosa che soprattutto riporta l'Italia finalmente come nazionale nel gota del calcio mondiale. Questa sera abbiamo vinto contro un avversario forte, ma non abbastanza, non forte quanto noi, un avversario che ha costruito il suo percorso attraverso gli spunti individuali, attraverso la compattezza, attraverso anche la consapevolezza di avere giocatori di livello mondiale, ma questo non è bastato, non è bastato perché di fronte si è trovata un avversario meraviglioso, un avversario che è capace di giocare a pallone, che è capace di scollarsi di dosso dei paure che l'ottavo di finale ci aveva consegnato e siamo stati capaci di fare una partita straordinaria. Vincere un quarto di finale contro il Belgio così è veramente qualcosa di meraviglioso e per questo io ribadisco i miei applausi alla nazionale, è veramente un grazie perché sono serate bellissime queste, sono le più belle serate per chi ama il calcio, per chi ama questo sport e forse magari pecco un po' di presunzione essendo il mio argomento, ma solo il calcio riesce a regalare queste emozioni di così tanta intensità. La partita è stata una partita che abbiamo giocato benissimo, sotto tutti gli aspetti, siamo stati in controllo della gara per lunghi momenti, abbiamo sofferto solo gli exploits dei giocatori più forti del Belgio e cioè De Bruyne Hazard e chiedo scusa De Bruyne Lukaku, portate pazienza se sbaglio qualche nome, che sono stati capaci di andare a sfruttare quel tipo di situazione che noi avevamo deciso di concedere, perché è chiaro che se tu giochi in 25 metri e ti muovi come una squadra, come abbiamo fatto noi, puoi lasciare, se la tua pressione non è sempre perfetta, puoi lasciare campo agli avversari, qualche volta è successo, ma rientrava nella logica delle cose, nella logica di questa partita che abbiamo voluto giocare come sempre e questa sera, a differenza della gara con l'Austria, l'Italia ha fatto veramente la sua partita giocando da grandissima Italia. Se c'è una cosa che forse diciamo resta un po' così come unico piccolo neo è un po' questa consuetudine che ci portiamo dietro, cioè il fatto di creare tante occasioni e di non concretizzarle tutte, questa sera con un po' più di cattiveria, con un po' più di così, con un centravanti, un pochino più in serata, forse avremmo potuto chiudere anche prima il discorso, poi dopo siamo stati anche fortunati, l'azione di Lukaku, l'altra azione con Charlie quando si è infortunato, niente da dire, ma ci vuole anche questo. È chiaro che non si può pensare di affrontare una partita con un avversario del genere e non farmi mai tirare in porta. Invece siamo stati bravi anche a sopportare queste situazioni, siamo stati bravi anche alla fine a difenderci nonostante tutte le cose che sono accadute, l'infortunio a Spinazzola che mi è dispiaciuto veramente tantissimo perché è un ragazzo che si meritava di poter arrivare fino in fondo con questa squadra perché ha fatto un grande europeo, perché è stato tanto sfortunato nel corso della sua carriera e mi auguro veramente che non sia niente di grave, non credo che lo rivedremo naturalmente in questo torneo purtroppo, ma mi auguro per lui, per la sua vita, per la sua carriera che non sia niente di grave, che possa tornare a essere quel meraviglioso esterno sinistro che abbiamo visto in questo torneo. Questa sera abbiamo giocato benissimo, Mancini non ha sbagliato nessuna scelta perché Chiesa sulla destra era un pericolo costante per il Belgio, teneva sempre occupati con la testa e con gli occhi un paio di giocatori, abbiamo agito spesso sulla sinistra per cercare di liberare spazio proprio per Federico Chiesa, quando non ci siamo riusciti abbiamo continuato comunque a gestire il pallone, abbiamo continuato comunque a farlo girare, abbiamo continuato a creare superiorità numerica, a portare fuori i giocatori del Belgio cercando di strapparli da questa loro attitudine a rimanere piantati in area e siamo riusciti a fare un gol bellissimo con Barella, ma già prima c'era stato il gol annullato, era già una visaglia quella che è importante, anche se il gol è stato annullato è importante perché mette pressione all'avversario, perché sa che gioca contro una squadra vera e questa sera il Belgio lo ha fatto con il suo sistema, con il rispetto nei nostri confronti pagando però un primo tempo eccezionale dei nostri, il gol di Barella bellissimo, il gol di Insigne meraviglioso, Insigne è un giocatore eccezionale che ha spesso la ricerca di questo colpo, non sempre li riesce, qualche volta viene criticato, ma quando in serate come queste il pallone è in cassaforte, quando tu hai giocatori come Giorginio, come Verratti, come Barella e come Insigne tu hai un centrocampo e una parte di attacco che non perderà mai un pallone. L'unica nota un po' stonata della serata, come dicevo, è il centravanti e Ciro immobile e questa sera ha fatto molta fatica. C'è da dire a sua parziale discolpa che spesso si trovava contro uno barra due difensori centrali, non è facile giocare sempre spalle alla porta per uno come lui, non è facile giocare con difese che appunto come quella del Belgio si piantano in area, ha fatto a spallate, ha combattuto però è stato tanto impreciso, è stato veramente, ha perso troppi palloni in un momento della partita dove non potevamo permettercelo. Mancini poi ha cambiato, ha messo Berardi che è stato comunque utile alla fine, ha messo Cristante che ha preso un paio di palloni in aria, che ha dato anche un colpo a Vitzel per far capire che c'eravamo anche da un punto di vista fisico e non solo superiori da un punto di vista tecnico e ci porta questa meravigliosa squadra a Wembley. Poi dopo c'era questione della difesa, Bonucci ha giocato a zoppato, ha giocato benissimo, di Chiennini non stiamo nemmeno a parlare perché Chiennini ha giocato una partita eccezionale, eccezionale. Ha giocato secondo me bene anche Di Lorenzo, aveva questo ragazzo, questo Doku che è un avversario molto complicato, è stato un po' ingenuo nell'occasione del calcio di rigore che è un calcio di rigore che sinceramente io non avrei fischiato però la sensazione dell'arbitro è stata evidentemente quella di una spinta forse anche un po' più forte di quella che è stata ma in ogni caso era mezzo e mezzo, ci poteva stare, poteva anche non fischiarlo e siamo andati a riposo così. Poi dopo l'inizio del secondo tempo è stato un qualcosa di incredibile, come abbiamo, come siamo rientrati in campo, come li abbiamo schiacciati, come li abbiamo tenuti lì, siamo stati veramente formidabili. Io non ho altro da dire, sono veramente contento, felice e continuiamo a vivere questa meravigliosa estate, questa meravigliosa avventura con questa squadra che adesso giocherà contro la Spagna, sarà una partita difficile anche questa, indubbiamente, però siamo lanciati e le squadre che sono lanciate insomma poi dopo spesso fanno bene, adesso vedremo naturalmente non si può mai dire che cosa succede in una semifinale contro una squadra comunque seria importante come la Spagna, però l'aver superato così questo ostacolo, l'aver giocato finalmente contro un avversario di grandissimo livello ci ha permesso di prendere piena consapevolezza della nostra forza, della nostra bravura, della nostra capacità di affrontare queste partite perché fino adesso pendeva sulla nostra testa il fatto di non aver mai affrontato avversari di primissimo livello. Bene, stasera l'abbiamo fatto e questi sono i risultati. Grazie Mancini, grazie ragazzi, è stata una serata terribile dal punto di vista fisico, ma straordinariamente emozionante e straordinariamente bella. Buonanotte, Forza Italia.